Mi chiamo Nicola. Per quelli come voi che quando vengono al mondo seguono l'ordine naturale delle cose, che sarebbero i tre fondamentali, nascere, crescere e morire. Io sono un reietto, sono marcio, che poi la natura che non ha occhi, naso e bocca come a voi è più furba, e il marcio ha la sua estrema rivincita. Il pomodoro marcisce, il seme mette le radici e nasce la pianta. E mentre voi vi affannate a seguire l'ordine naturale delle cose, il marcio ha già messo le radici ed è più forte di prima. Statene certi, io ritornerò. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.